Ciao e benvenuti a questo nuovo video dedicato al Q&A, quindi alle domande e risposte, domande e risposte inerenti di e-commerce, come sviluppare, come migliorare un proprio e-commerce e in generale come sviluppare un proprio business online. In questo nuovo video, dato che abbiamo ricevuto tante richieste inerenti alla realizzazione di un prodotto o alla ricerca di fornitori e anche l'importazione di prodotti, abbiamo deciso di chiedere l'aiuto di uno specialista e di un caro amico, Bruno Castelnuovo, che è un e-commerce manager con tanti anni di esperienza, che ha sviluppato veramente tanti e-commerce negli ultimi anni, che hanno raggiunto fatturati superiori al milione di euro. Quindi benvenuto Bruno. Ciao Jasper. E grazie innanzitutto di essere qui per appunto dare alcune risposte alle domande che hanno fatto i nostri follower proprio inerenti appunto alla realizzazione di prodotti propri. Allora, Bruno, magari vediamo subito con le prime domande, oppure inizialmente magari dai un'introduzione e dici un po' di che cosa ti occupi e che cosa anche hai realizzato, che prodotti hai venduto tramite e-commerce, perché tu hai veramente venduto tantissime tipologie di prodotti. Sì, Jasper, diciamo che ho iniziato nel 1998 con una prima società, quando abbiamo visto che iniziava il business su internet. Con quella società ho iniziato a realizzare siti web, dopodiché diciamo ho infiutato il discorso che si poteva vendere, e sinceramente era agli inizi la cosa. E abbiamo iniziato con quello che era un progetto di sicurezza e videosorveglianza nel 99 e questo progetto si è sviluppato abbastanza bene. Logicamente nel 1999 la videosorveglianza, vista come la vedevamo noi o la vedevo io con questa società, era un pochettino diversa dalla videosorveglianza classica con ancora i nastri, le videocassette, timelapse, quelle cose lì. E noi abbiamo iniziato col digitale. Con il digitale, quindi prodotti diciamo tecnologici. Prodotti tecnologici, sì, innovativi dove arrivavano il 99% dall'America e dalla Corea. Diciamo che la Cina allora in quei periodi lì era veramente molto indietro, i prodotti cinesi erano prodotti molto amatoriali e non riuscivano a stare al passo con la tecnologia. E oltre a questi prodotti dopo hai venduto anche altri? Perché hai realizzato anche altri? Abbiamo fatto quel tipo di prodotti lì, poi dopo abbiamo cercato di seguire quella che era l'onda delle vendite televisive, perché diciamo che questo potrebbe essere un trucchetto, un qualcosa da... ci sono delle aziende che investono milioni di euro in prodotti per lanciare un prodotto e sicuramente quel prodotto o un prodotto simile viene trovato in Cina. Logicamente non dovete prendere delle copie, ma dovete fare un qualcosa diciamo di simile che crea l'onda. Ad esempio noi abbiamo preso l'onda, se vi ricordate, adesso non mi ricordo di preciso il periodo, probabilmente era il 2005-2006 delle Abiking Pro, era quella specie di palestra che si faceva a casa e noi ne abbiamo venduti 5, 6, 7, 8 container anche di più, quello da parte nostra. In più abbiamo fatto una vendita anche diciamo all'ingrosso ad altre società che facevano quello. Poi altri prodotti ancora, è stata la pedana vibrante, ne abbiamo venduti anche lì una decina di container anche di pedane vibranti. Poi c'è stato il business degli elicotteri, anche lì container e container di elicotteri e di prodotti radiocomandati tra elicotteri, barche, macchinine, altre cose. Poi abbiamo fatto commercio di prodotti per lo spionaggio industriale, questo a livello però professionale e non a livello amatoriale tipo questi prodotti di largo consumo. E abbiamo cercato diciamo di spostare quello che era la vendita secondo il mercato. Ok, poi anche prodotti estetici. Sì, prodotti estetici. Nel 2007 ho iniziato con la vendita di prodotti sull'estetica focalizzati in un settore molto particolare che era l'extension delle ciglia, un qualcosa di completamente nuovo. Ho iniziato con questo prodotto dove non era un e-commerce dei grandi numeri, era un e-commerce di nicchia, dove un prodotto lo pagavi 10 e lo vendevi a 100. Io ho sempre cercato questo tipo di business dove pagare un prodotto 10 e venderlo a 100 con un ricarico abbastanza alto. Non perché poi alla fine il ricarico resta alto, ma perché dei costi che ci sono sono tantissimi. Esatto, quindi è importantissimo avere una marginalità, avere diciamo dell'utile poi da poter gestire, poi per investire, sostenere i costi strutturali, ma anche i costi di acquisizione clienti, di pubblicità. Il costo di acquisizione clienti, noi già a Spal ci conosciamo, e sarà una 12-13 anni, penso. Esatto, ormai è efficace. Come sai benissimo, noi cerchiamo anche nel tuo lavoro, cercare di investire non quello che è un one shot per SEO o questo tipo di attività, ma quando si parte con un e-commerce o con dei siti paralleli, sempre con dei contratti che sono a medio-lungo termine, il minimo dei sei mesi fino all'anno per poter ottenere dei risultati. Altrimenti i risultati non si ottengono e non si può pensare di partire con un e-commerce senza dei siti di appoggio o un qualcosa che appoggi, diciamo questo, sviluppati oggi per vendere domani. Se sviluppate oggi venderete tra sei mesi, un anno. È logico che è difficile poi prospettare un prodotto buono oggi per la vendita per 12 mesi, però si possono utilizzare delle strategie per poter far sì che il sito sia ottimizzato su qualcosa e poi dopo introdurre all'interno di quel sito il prodotto. È logico che ci vogliono i tempi. I tempi si sono però ridotti, con il discorso dei social network con Facebook e Instagram, i tempi si sono ridotti notevolmente rispetto ad una volta dove era il posizionamento SEO, la cosa più importante. Esatto, adesso ci sono altre strategie alternative che poi vedremo comunque in dettaglio negli altri video. Quindi Bruno, entriamo un po' nel dettaglio di tutti gli aspetti che hai sempre gestito all'interno di un e-commerce che riguarda soprattutto la fase di ricerca dei prodotti, ricerca dei fornitori e di importazione dei prodotti. Quindi molti nostri follower ci hanno chiesto spesso come facciamo a trovare un fornitore e poi successivamente possiamo realizzare noi un prodotto nostro, magari farlo fare per esempio in Cina. Quindi come si cerca inizialmente un fornitore per esempio all'estero? Allora diciamo che adesso l'attività di ricerca di un fornitore è molto semplice. Questo è un vantaggio o uno svantaggio? Per quale motivo? Perché come voi trovate un fornitore lo trova la vostra concorrenza. Più è semplice per voi trovare un fornitore, più quel prodotto è semplice trovarlo dal concorrente se il prodotto è un prodotto di successo. Ci sono i siti come Alibaba, che ormai diciamo è più diffuso. Prima c'era molto utilizzato, era anche Global Source per quello che riguardava i prodotti specialmente di elettronica. e poi ci sono altri siti che sono dei portali diciamo cinesi. Mio consiglio è sì utilizzare questi siti per avere delle idee, ma come vi ho detto adesso, più è semplice trovarlo, più lo troveranno anche i vostri concorrenti. Seconda cosa, su Alibaba non trovate quasi mai il produttore. Trovate delle trading, che sono delle società cinesi, società tra virgolette, perché il 90% non sono nulla, non sono altro che una piccola società, una company aperta ad Hong Kong, una LTD aperta ad Hong Kong, dove ci vogliono 500 dollari per aprire una società di questo genere. È molto semplice. hanno degli uffici che spesso sono sulla strada. Adesso magari riesco a passare a Jaspal delle fotografie, così riesce a inserirle in questo video. Vedete in queste foto qual è la vera realtà della Cina, perché io sono stato in Cina quando avevo questi business, diciamo che giravano veramente tanto, meno male io vivevo tre mesi all'anno in Cina, dai tre addirittura ai cinque mesi all'anno. Avevo, controllavo sul campo quello che succedeva e cercavo i veri fornitori, i veri produttori per quello che erano i prodotti che io dovevo acquistare. Perciò voi potete iniziare con Alibaba, cercare il vostro prodotto, contattare l'azienda, vedere se quest'azienda innanzitutto è un produttore o è solo una trading, come vi ho detto. Per fare questo è abbastanza semplice. Potete iniziare a chiedere se ad esempio avete prodotti di elettronica, potete chiedere ad esempio le certificazioni. Il 90% delle trading è difficile che riesca a darvi delle certificazioni CE, certificazioni ROS sui prodotti di elettronica. E anche questo è un altro punto dolente, perché spesso le certificazioni sono false. Consiglio che vi do, quando vi arrivano delle certificazioni, solitamente sono emesse da un ente certificatore che voi trovate sulla certificazione CE. Potete andare sul sito dell'ente certificatore. Con il numero della certificazione ci sono dei database. Alcuni certificatori mettono già a disposizione il database a livello pubblico. Se il certificatore non vi mette questo, voi scannerizzate la vostra certificazione o vi arriva già in file PDF, la rigirate tramite mail al certificatore e chiedete l'autenticità di quella certificazione. E qui vi accorgerete che l'80% delle certificazioni che vi vengono inviate sono false. Questo vi può rallentare leggermente nell'importazione del prodotto. Ma quali sono in questo caso gli aspetti principali, proprio due o tre consigli utili ai nostri follower per capire se il fornitore è affidabile o meno? Possiamo chiedere una campionatura? Allora, chiedere una campionatura sì, per vedere la qualità del prodotto. Però prima di partire con le campionature, ad esempio parliamo di elettronica, vi consiglio di verificare le certificazioni su un prodotto. Scegliete un prodotto, ne basta uno di quei prodotti perché non dovete fare mille prodotti. Chiedete le certificazioni e vi accertate che quelle certificazioni siano originali. Da questo punto potete iniziare la trattativa a livello commerciale che magari in precedenza l'avete iniziato a fare. Se le certificazioni non sono originali, cosa potete incorrere? Potete incorrere in sanzioni che non sono piccole. Ve lo posso dire perché abbiamo avuto nelle società che io controllavo parecchi tipi di controlli e per delle informalità piccolissime, ad esempio solo sulle etichettature, abbiamo avuto delle sanzioni di oltre 250 mila euro. Che poi dopo tramite avvocati e tutto, ho saputo ultimamente che la causa è finita, hanno pagato 40-50 mila euro. Bisogna stare veramente molto bene? Purse era tutto in regola, attenzione. In questi casi noi le certificazioni erano tutte originali, era tutto perfetto, ma c'erano delle piccole informalità sull'etichettatura. Un errore di etichettatura che ha fatto scattare, scatenare tutti questi controlli. Se in quel caso le certificazioni non fossero state perfette e giusto, sarebbero arrivate dalle sanzioni probabilmente di qualche mezzo milione di euro. Cosa che fa saltare sinceramente una società. E questo può capitare perché vi posso dire che una su dieci importazione viene verificata in dogana. Se questa importazione è abbastanza grande, parliamo di importazioni da 2-3-4-5 mila euro, io vedo gente che importa i 500-600 euro, lì al 90% dei casi entra tutto e è difficile che vi facciano un controllo. Quindi sicuramente è molto importante, diciamo, sapersi districare, soprattutto verificare le certificazioni a chiedere una campionatura del prodotto, insomma, e utilizzare questi portali per cercare di entrare in contatto con questi fornitori. La maggior parte parla in inglese, quindi sicuramente è abbastanza semplice. Il 99% parla in inglese. Esatto, quindi sicuramente. E da questo punto di vista capiamo anche che è importante comunque essere affiancati, quindi da dei consulenti, da dei specialisti che si occupano anche di importazione, proprio perché ci sono, diciamo, tutti questi aspetti da verificare. Ma oltre a questo, Bruno, ci chiedono in tanti, si può realizzare un prodotto proprio tramite questi fornitori? Quindi, per esempio, abbiamo intenzione di entrare in competizione su dei prodotti consumer. prendiamo, facciamo un esempio banale, non so, prodotti casalinghi, quindi per esempio piccoli arredi o qualsiasi altra cosa. Comunque in generale prodotti consumer è facile? Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione? Si può far realizzare un prodotto, quindi con il proprio brand, con il proprio marchio e con magari delle personalizzazioni a questi fornitori? O è difficile o è meglio farlo in Italia? Insomma, cosa consigli? Sì, è possibile far realizzare dei prodotti, quelli che chiamano private labeling, quasi tutte le società, dipende dal tipo di prodotto, forniscono questo tipo di servizio? Logicamente dipende cosa intendiamo per private labeling. Possiamo intendere, ad esempio, un prodotto già finito, già fatto da questa azienda, dove viene solo etichettato in modo diverso, viene fatta una scatola, viene fatto un packaging differente per voi. E questo è possibile. Ed è abbastanza semplice. Solitamente li chiedono dei quantitativi, ipotesi, su un prodotto che costa 5-6 euro, magari 500-1000 pezzi. Che potete anche fare dei trucchi, perché magari siete all'inizio, volete fare una campionatura di 10 prodotti, vi chiedono 1000 pezzi, a questo punto è un investimento troppo alto all'inizio. Cosa potete fare? Potete utilizzare il trucco di creare delle scatole o dei packaging più quasi simili tra di loro e produrre, pagare solo il packaging, lasciarlo in azienda e farvi produrre magari 200 pezzi per modello. All'inizio vi diranno di no. Poi dopo, quando mettete e dite che volete pagare, pagate voi, ci pensate voi a pagare le fustelle dei prodotti, le cose, al 90% queste qua che sono delle training vi dicono di sì. Se invece avete preso un'azienda che è realmente un produttore, vi dice di no. Ovviamente. Ovviamente. Noi ad esempio abbiamo fatto, ultimamente abbiamo fatto produrre per noi dei tubi che usiamo poi per dei mascara, il prodotto viene fatto in Italia, il tubo ce l'abbiamo fatto fare in Cina, abbiamo dovuto produrre 50.000 pezzi per avere il nostro tubo fatto in un certo modo. Quindi sicuramente in quel caso proprio bisogna fare anche una valutazione di costi, di investimenti. Sì. Quindi nel settore dei cosmetici, per esempio, ci sono determinati settori dove è meglio comunque far produrre in Italia. Più che meglio dipende allora, il grande, io dico sempre così, il grande con il brand conosciuto può produrre in Cina, perché alla fine la gente compra il brand. Ovviamente. Se voi invece siete piccoli, voi dovete vendere la qualità. Vendere la qualità cosa vuol dire? Vuol dire vendere un prodotto made in Italy, è più semplice venderlo. Noi ad esempio abbiamo iniziato a produrre adesso tre tipi di mascara differenti che sono prodotti in Italia e questo prodotto io lo vendo anche all'estero, lo vendo anche in Inghilterra, lo vendo in Belgio, lo vendo in Irlanda, marchiato con dei marchi diversi, irlandesi, del Belgio e inglesi, con scritto prodotto made in Italy. Se quel prodotto l'avessi fatto produrre in Cina avrei pagato probabilmente 10 centesimi, 20 centesimi meno al pezzo, ma nessuno me l'avrebbe acquistato in Europa. Chiaramente. Perfetto. E anche in Italia diciamo il processo sicuramente è molto più semplice, quindi di entrare in contatto con i fornitori. Sì. Quindi in quel caso cosa consigli? Quindi se una persona volesse sviluppare un proprio prodotto di cercare proprio direttamente su internet delle fabbriche, dei produttori e poi anche a livello di costi, sono sempre costi più alti? Allora per l'Italia io vi posso fare degli esempi nostri. Ad esempio noi adesso con il discorso Ciglia produciamo tutto quello che è l'aftercare, tutti quelli che sono i prodotti di cosmetica e consiglio anche a tutti se volessero mettersi nel campo della cosmetica utilizzare la produzione in Italia, perché innanzitutto diamo la possibilità ad aziende italiane di lavorare. I costi sono relativamente più alti e il vantaggio quale può essere? Può essere il discorso del numero dei pezzi. Se in Cina un prodotto, ipotesi, un mascara, dobbiamo produrne 50-100 mila pezzi, in Italia possiamo produrne anche solo i 5 mila pezzi di un prodotto. È vero che lo paghiamo un pochettino di più, però alla fine abbiamo un prodotto made in Italy, un prodotto di qualità e per i prodotti ad esempio, quello che consiglio io, tutti i prodotti che vanno dalla parte cosmetica o per i bambini hanno necessità di certificazioni molto particolari, di cui i prodotti cinesi assolutamente un prodotto fatto in Cina da una piccola azienda non riesce a passare questo tipo di certificazioni. Ok, perfetto. Grazie Bruno per i tuoi consigli estremamente utili, quindi si vede che insomma hai passato tantissimi fornitori, quindi hai avuto occasione veramente di trattare tantissime tipologie di prodotti differenti e quindi vedere proprio qual è l'approccio di tanti mercati. Quindi sicuramente questo può essere molto utile ai nostri follower e avremo occasione di realizzare altri video con Bruno su altre tematiche molto interessanti riguardanti l'e-commerce management all'interno del nostro sito Scuola e-commerce e anche all'interno dei corsi che realizzeremo dove appunto ci sarà occasione di parlare con te direttamente e avere anche delle consulenze specifiche su determinate esigenze che magari avranno i nostri studenti, i nostri partecipanti, quindi sicuramente la tua consulenza sarà veramente molto utile. Grazie di nuovo per la tua disponibilità. Grazie Giasco. Per finire in questo video e niente, noi ci vediamo nei prossimi video per ancora comprendere meglio come sviluppare, come migliorare e ottimizzare il proprio e-commerce e le proprie vendite online. Grazie. Ciao. Grazie a tutti.